Ancora a fiato sospeso il Po continua ad ingrossarsi ma la piena nel tratto cremonese piacentino si fa ancora attendere. L'Aipo quest'oggi conferma che il colmo arriverà in Lombardia domani e dovrebbe coinvolgere Cremona a partire dal pomeriggio. Le previsioni parlano di un'esondazione al di sopra dello zero idrometrico pari a 4,20 m toccando così il livello 3 di criticità. Intanto lungo il fiume le cui acque schiumose e grigie scorrono ad una velocità sostenuta trascinando avalle e detriti di ogni genere ci si dà da fare per non farsi cogliere impreparati. È la routine della continua lotta tra il fiume e la sua gente. Imbarcazioni messe al riparo, le canottieri impegnate a difendere le proprie strutture, strade lungo il fiume interdette al passaggio. Come in lungo poi Europa sebbene ancora oggi era difficile arrestare la curiosità di chi voleva guardare il grande fiume scorrere mentre guadagna terreno lungo la Golena. Come a Castelvetro dove le acque hanno già sommerso Ponticello Beach, la nota spiaggia che proprio quest'anno ha riaperto i battenti e lambiscono ora minacciose le prime case del paese.